Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Fratelli d'Italia ha reso praticamente impossibile abortire nelle marche che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni. Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano. È la storia pubblicata su Instagram da Chiara Ferragni. Di sfondo si nota il contenuto del profilo della rivista The Vision. C'è una stanza di ospedale con un lettino nero. Quello su cui ogni donna è costretta a sedersi per sottoporsi ai controlli necessari prima di abortire. Il post è arrivato proprio nel giorno in cui la leader di Fratelli d'Italia, Giorgio Meloni, ha avviato la sua campagna elettorale nazionale dalle marche, precisamente da Ancona, in una piazza Roma gremita di sostenitori, compreso il governatore Francesco Acquaroli. L'argomento però non è stato affrontato. Il post della Ferragni è contro le decisioni maturate dalla regione dal 2020, guidata proprio dal partito della Meloni. La giunta regionale si è infatti opposta all'aborto farmacologico nei consultori e quindi alla somministrazione della pillola. Una volontà che è in contrasto con le linee guida proposte dal Ministero della Salute, tanto che in passato aveva creato dissapori politici. Grazie a Chiara Ferragni si accende un faro sulle marche governate da Fratelli d'Italia. Sono due anni che portiamo avanti questa battaglia da sole nell'indifferenza dei più. Lo scrive su Facebook Alessia Morani, candidata del Partito Democratico, riprendendo il post dell'influencer e imprenditrice. Le marche, aggiunge Morani, sono il laboratorio della destra in Italia ed oggi la situazione è questa.